Salve ragazzi sono Castoro, io sono Cofruccioghe e ben ritornati su Opercucalda. Allora che nell'ultimo episodio siamo arrivati prima della casa cipolla adesso ci siamo entrati dentro e c'è un vecchio cipolla come il cane. Parliamo con il vecchio cipolla, salvevi piccoli. Salve i miei piccoli amici, siamo nell'anno 1995, siamo passati due anni dal nostro ultimo incontro, erano 20 minuti fa tipo, più o meno. Perché sono disabile alla Michael Jack? Dove cazzo sono? Non mi posso muovere! Vabbè, il tempo è proprio volato. State facendo ottimi progressi nella vostra visione, ma dovrete migliorare il vostro spirito di cooperazione se volete sperare le sfide che vi attendono. Viaggiate verso S, dove troverete altre cucine? Avanti amici miei. Che cazzo? Il cane non lo posso sfottere, no? Ok, andiamo. E' bellissimo il cane. Yeeeh! Ti picchio nella casa degli altrui. Uuuuuh! L'altra parte del mondo dobbiamo arrivare. Vaiiii! Però lì non l'abbiamo sbloccato. Eh, forse è più avanti, tipo di fare il giro brutto. Che cos'è? Eh, il coso che sbatte. Ok, vai! Rivello 2 e 1. 240 questo è impegno. Madonna cara sui camion. Sui camion. Che si muovono, sicuro? Tu sei sempre il procione. Deve uscire il castello, altrimenti il castello. Il castello? Il castello, altrimenti si installa il gioco. E mando una lettera di reclamo agli sviluppatori. Oh merda. Ma come si arriva dall'altro lato? Dobbiamo saltare? E' morto. Ah, sono io morto. Sei morto. Vabbè, carne. Forse con la B. Prova. Si avvicinano, ecco. Abbiamo capito che si avvicinano. Hai perso anche la carne tagliata. Bravo l'imbicino. Eh, perché tu coso con giù che... Allora, insolata. Ok, io resto di qua. Passami i piatti. Ma non c'è arrivato. No. C'era arrivato. Mi servono i panini. I panini saranno qua. Ok. I panini stanno con di là. I panini dei piatti. Quale ci vuole? Ah no, uno serviva solo qua. Insalata, 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 insalata. No, l'ho tutta con il cesso. Perfetto. Ok, abbiamo scoperto che quel coso è il cesso. Vai, altra carne. E sto facendo. Dabbi il tempo. Altra, altra. Prima che sei lontano, altra carne. Sì, pomodori. No. No, sono caduto. Ti serviva l'insalata, vabbè. Ok, pomodori. No, cazzo. Non mi serviva l'impevano d'ora. Perché? Eh, ti serviva l'insalata. Tieni. Ah, io, no. Ah, sono, no. Ah, sono, no. Ah, è meglio, no. Basta portarmi roba a casa. Oh, io te lo preparo così se ti serve l'oro ce l'hai già, coglione. La carne mi serve, non me la butti. Eh, perché lo stavo facendo ora? Ah, insalata. Ce l'hai la terra. Se l'ho fatta. Tieni. Ah, sono caduto. Prenditi la carne di là. Vabbè, te lo porto io. Ma più è del tempo. Vabbè. Portami l'insalata. Altra insalata. Ah, te l'ho scaduto. Abbiamo fatto schifo. No, questa si rifà. Questa si rifà perché è bella. A 2,40 dobbiamo arrivare. Vabbè, andiamo avanti. A tutta birra. Obiettivo sbloccato. Ok. Bello 2,2. Ok, vediamo cosa c'è. Cazzo, si arriva in mezzo. Eh, questo secondo me ci vorrebbero quattro persone. Vai, però, ciussi, io credo in te. Sei un nappo. Ok, ma devi andare a sinistra, dai. Vai. Che dobbiamo fare? Pomodori, vai. Passami i pomodori. Tieni. Passali, non fare il giro come un imbecille. Ma che che so? Aspetta, altro pomodori, Gesù. Tieni. Vai, taglialo. Che cagli topi, si fa incelere la roba. Ma che cazzo? Cipolla, cipolla, cipolla. Cipolla ce l'ho anche io. Ah, tu c'hai pure i funghi. Oh, il topo di merda. Che cazzo? No, si ruba la. Eh, scialla. Ah, se sto topo di merda. Ah, vai via. Capi ruba la roba. Ah. No. Guarda, sei topo di merda. Ok. Non sto capendo più cazzo. Tobi! Ma quanti cazzo c'è che sono? Ah, no. Ma dai. Si ruba la roba. Ok. Ah, dai. Tagliamo le cipolle. Un'altra cipolla. Portamelo sul tavolo qua. Eh, dai, cazzo. Ottimizza. Funghi, funghi, funghi. Porta i funghi. Ah, ma ci sono le pendole pure di qua. Ah, basta. Fornelle. Ci siamo schiettati. Stavere esplodere. Ah, ho preso fuoco. Come si? L'ho passato. Ah, ah. No, si sta sfadendo. No, l'altro. Ah. Vengo con l'estitore già. Ok. Non sto capendo più il cazzo. Ma le cipolle dove sono? Ci servivano le cipolle. Ok, dividiamoci come. Cioè, strategia. Io faccio funghi e cipolle e tu fai pomodori. Giusto? Sì, ma i topi. I topi se ne vanno a fanculo. Fatti tu la roba che sta di là e io la roba che sta qua. Tu non vieni di qua e io non vengo di là. Non mi rompevi il bambino. Ok. Ricomincio. Ricomincio, vai. Tagli ai pomodori. Ah, questo costo di merda. Ah, gli ho dato un calcio. Guarda. Bellissimo. Ma si possono picchiare i topi. Picchiamo i topi. Dopo ti servono le cipolle. Ah, è tutto. Basta. Ah, le tagli stai cipolle. No, le cipolle. Ah, le cipolle. I popodori. Topi di merda. Topo di merda. Dobbiamo prendere una cosa alla volta perché altrimenti i topi se lo mangiano. Ma tu l'abbiamo già tagliato, si mangiano. Eh, certo. Mi che sono scegliato. Eh, fa' il culo. Pomodoro, pomodoro. Prendi il pomodoro. Taggialo. Va' a fa' il culo i topi. Cazzo le metti stai cipolle. Dai. Ah, taggiti nei coi giochi. Va' a prendere i piatti. No, ce la facciamo con le cipolle. Vai. No, le cipolle sì, gli altri. Vai, vai, servi, servi, servi. Ah. Rippa. 180 abbiamo fatto. Quanto ci voleva? 240. 200. Guarda la mia. No, lascia stare, lascia stare. I topi. Ma che cazzo sono? Eh, perché stiamo in città, capito? Ah, ok. 180. Uh, qua siamo proprio separati. Ah, forse c'è il nastro trasportatore, quello attorno. No, dove lo vengono? Secondo me è il nastro trasportatore per il coso torno. Vediamo. Eh sì. Vedi? Vedi che c'ho sempre ragione? Oh mio Dio. Madonna. 30 secondi. Faccio diamo un attimo. Io c'ho gli ingredienti, tu c'hai i fornelli, giusto? Esatto. No, c'ho tutto io, porca puttana. Io devo solo servire, cosa? Lo devi tagliare tu, sì. Ah, spesso, diamocela prima e poi dopo giochiamo. Eh, io devo tagliare. Ok. Ok, io ti passo. Ah, tu me lo passi sopra, taglio e metto sotto. Ok. Eh, va bene, dai. Tu metti a cuocere, me lo passi sopra, io lo metto nel piatto. No, qui comincio. Vai. Eh, prima di tutto. Carne, carne a volontà, carne a volontà. Ma tu è lentissimo sto coso. È lentissimo sto coso. Ma la carne la devo fare... Ah, non ce l'ho. Go, la devo tagliare, con più ora. Panini. Vai, 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 vai. Eh, 4 secondi, sti cazzo, che ce la farò mai. Solo carne, buttala, buttala, buttala. Eh, non ce la fa. Ce la sei tra le quattro, ma non dobbiamo la fare. Certo, quel panino di merda perché non mi hai dato la carne. Ma se quella è la carne che hai tontato prima, con più. No. Oh, chef. Ma riaggiungi Angela. No, livello competitivo. Bello. Quanto è figo. Questo secondo me balla pure. Questo sì, va adesso sinistra. Eh, sì, va adesso sinistra. Secondo me ha 4, 2 contro 2, questo gioco è bellissimo. È fighissimo. Vai, continua. Chissà se in line possiamo giocare contro 2 sconosciuti. Non lo so. Ok, questo era il terzo livello di oggi. Sì, perché abbiamo fatto 2, 1, 2, 2, 3. Bene, ragazzi. Adesso chiudiamo qua l'episodio. Ma nel prossimo episodio vi diremo se possiamo fare 2 contro 2 magari online con la nostra gente. E sfideremo gli inglesi o chi sarà. Esatto. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao.